Eh? Cos'è questo suono? Oh, che diavolo! Oh, che cavolo! Ma c'è qualcuno! Sto qui di mezzo! Au! No, le mie cose! Qualcosa non va! Posso aiutarti? Grazie, sorella! Nessun problema! Vieni alla mia festa stasera! Io pure! No, tu no! No, viene anche lei alla festa! Non preoccuparti! Non piangere! Ecco, lascia che ti mostri qualcosa! Guarda qui! Wow, cos'è? Un beauty box! Esatto! Ora vediamo! Wow! Chloe, guarda! Oh, eew! Forza! Chloe! Oh, smettila! È terribile! Fammi vedere! Boh! Dobbiamo fare qualcosa! Oh, ecco! Ho trovato! Oh! Dai un'occhiata, Chloe! Wow! Che cos'è? Wow! È così divertente! Un ottimo antistress! Io... Sì! Wow! Basta che sei felice, tesoro! Vediamo cosa ho per i tuoi brufoli! Ecco qui! Delle patch! Proviamole! Non preoccuparti, sorella, ti sistemerò in un battibaleno! Proprio così! Oh, mi fa il solletico! E l'ultimo! E ho fatto! Ora non ci resta che aspettare! Non preoccuparti, sorella, i tuoi brufoli andranno tutti via! Vedi? Ci è voluto letteralmente meno di un minuto! Stogliamo le patch! E ha funzionato! Wow! Voglio togliere io le altre! Oh, che figo! La mia faccia già sta molto meglio! Guardati! Wow! La mia faccia è così pulita! Fantastico, vero? Sono così felice! Oh! Aspetta un attimo! Adesso ti sistemo io! Sistemare cosa? Niente! Oh, eccolo qui! Proviamolo! Non l'ho mai usato! Per prima cosa applicherò il dentifricio! E ora... Guarda, Chloe! L'aeroplanino sta arrivando! Sì, direttamente in bocca! Grande, ora accenderò il bai dentale! Oh, Ruby! Cosa sta succedendo? Che diavolo era quel coso? Per qualche strano motivo mi sento la bocca più pulita! Ah, spettacolare! Sei così bella! Adesso proverò un'altra cosa! Con i capelli faccio di tutto! Dai, dov'è? Ah, finalmente! Ruby, per favore, aiutami! Caspiterina, cosa hai fatto? Ti aiuterò io! Chloe! Oh, che? Oh, Ruby, guarda qui! Le somiglio? Guarda e impara, tesoro! Usa questi! Wow, le mie labbra sono così buffe! E ora... Io! Oh, funzionerà? Certo che sì! Ora guarda le mie labbra! Wow, le nostre labbra sono fighissime! Wow, sono una modella! Siamo entrambe così belle! Cos'hai? Le mie labbra non sono semplicemente fantastiche! C'è qualcosa che non va, sorella? Dobbiamo assolutamente fare qualcosa! Vediamo se nel Beauty Box c'è una soluzione! Usiamo... Questo! Sì, è proprio quello di cui abbiamo bisogno! No? Voglio la tua anima! Niente più peli! Ehi, in realtà non è così male come pensavo! Eri spaventata, sorella! È tutto ok! Ora facciamo le sopracciglia! Fatto! Wow, ha funzionato! Sì! Abbiamo finito! Semplice, vero? Dallo a me! È così figo! E adesso se facessi... Ai! Che dolore! Oh no! Ma com'è potuto succedere? Chloe, calmati! Adesso ti aiuto io! Aspetta! So di avere dei timbri da qualche parte! Eccolo! Perfetto! Non preoccuparti, Chloe! Adesso ti farò avere delle belle sopracciglia in pochissimo tempo! Non ti preoccupare! Oh, qualcuno mi sta chiamando! Oh, ciao, Ruby! Ciao! Come stai? Bene! E tu? Oh, sì! Ha detto cosa? Ma dai! Vabbè, io devo andare! Ok, ci sentiamo! Sì, ci vediamo! Oh, grazie mille per l'aiuto, sorella! Come mi stanno adesso le sopracciglia? Non preoccuparti, le sistemerò! Ma adesso dobbiamo fare qualcosa per i tuoi capelli, vediamo! Per prima cosa togliamo le trecce! Oh, oh! Oh, i miei capelli! Chloe! Niente panico! Ti aiuterò io! Dunque! E tira! E tira! Oh, che diavolo! Oh, cosa c'è che non va? Wow! Perché indossavi una parrucca? Non lo so! Anche i miei occhiali sono finti! Va bene, almeno credo! Ok! Non ci resta che aggiungere alcuni strass! Mi piace molto questo gadget! Guarda come funziona! Per prima cosa prenderò alcuni strass! Poi chiudo il gadget e... Guarda come funziona! Wow, che figo! Mi piace come brillano! Spettacolare! Ancora qualcuno e... Wow! Sembro un diamante! Wow, voglio vedere cos'altro c'è nel beauty box! Tipo... Questi! Wow, cosa sono? Oh, sono così belle! Oh, no! Aspetta, Chloe! Ti piaccio? Le hai messe male! Ecco, lascia che ti mostri come si fa! Per prima cosa devi incollare le ciglia e le palpebre! Ah, ah, ciù! Ops! Salute! Stupide ciglia, via dalla mia faccia! Insomma, adesso useremo queste! Wow! Bene, sorella, sono pronta! Guarda, per prima cosa si prendono le ciglia! E bisogna separare la parte con la colla, proprio così! Sei così intelligente, Ruby! Vorrei potermi truccare come fai tu! Oh, la sento sulla palpebra! E adesso? E ora la parte migliore! Che bella! Grazie, sorella! Chloe, sei così carina! Ma non abbiamo finito! Oh, cos'è questo gadget? A cosa serve? Oh, come... Come gira! Ruby? Ruby, mi senti? Sorella? Fa niente, farò tutto da sola! Oh, è così che funziona, giusto? Applichiamo un po' di fondotinta! Wow! E adesso in faccia! Wow! Mi fa il solletico, ma è piacevole! Ho visto usare questo gadget ad alcune blogger su Instagram! Spero di aver fatto bene! Io... Guarda, adesso sono in grado di truccarmi da sola! Chloe! Ti sistemerò io? Wow! Adesso sento che il viso mi respira di nuovo! Adesso ti truccherò! Bene! E adesso cosa facciamo? Iniziamo! Prenderò una spugna! Ciao! Aia! Aia! Grazie, spugna! Ora il mascara! Ciao, mia cara! Vediamo che cosa posso fare! Fantastico! Perfetto! Oh, wow! Sono bella! Non resta che applicare un po' di rossetto! Oh! Voglio provare da sola! Che buon odore! E applico! Come sto? Beh... Puliamo un pochino! Proprio così! Sì, molto meglio! Come posso renderti le cose più facili? Oh, meraviglioso! Guarda e impara, tesoro! Questo è un trucchetto geniale! Per prima cosa, metti un po' di rossetto sul tappo della bottiglia! Facile, eh? Adesso appoggialo sulle labbra! Oh... Oh... Mua! Come sto adesso? Molto meglio! Sei fantastica, Chloe! Lo so! Sei così bella! Ma è rimasta ancora una cosa da fare! Credevo fosse qui! Quando è stata l'ultima volta che ti sei depilata? Tipo... Mai? Va bene! E adesso come facciamo? Spero sia divertente! Oh, sarà divertente, vedrai! Che cos'è? È così bella! Non preoccuparti, sorella! Lo scoprirai presto! Fincolla la striscia! E... Fatto! Wow! Ma quanti peli! E quella era solo la prima! Smettila, Chloe! Proviamo ad usare questa, allora! Non dovrebbe fare alcun male! Dai, dammi la gamba! Sarà super semplice! Per prima cosa applicherò la crema sulla pelle! Molto semplice, vedi? Sì! Uno, due, tre! E ora userò un bastoncino per rimuovere tutto! Proprio così! Niente più peli! Sì! Wow! Ma guarda! Wow! Grazie, sorella! Manca ancora una cosa! Guarda e impara! Uno, due, fatto! Eh? Ora tocca a te! Wow! Che figo! Uno, due, fatto! Uno, due, fatto! Fatto è fatto! Non funziona! Chloe! Ok, proviamo in un altro modo! Wow! Sono pronta? Sì! Siamo in ritardo! Andiamo! Wow! Move! Oh, caspita! Chloe, sei così carina! Vieni alla mia festa! No! Cosa? Ehi, guarda! Ci siamo teletrasportate! Siamo in spiaggia! Finalmente un po' di riposo! Eh, ragazze! E adesso? Ciao! Accidenti! Allora, ragazze, oggi ci sarà una festa! Oh, wow! Figo! Ma non entrate se non pulite questo casino, ok? Se siamo state invitate significa che siamo delle fighe! Ma come faremo a prepararci? Ho qualche asso nella manica! Ta-da! Sorella, ottima idea! Lo farò anch'io! Aia! Potevi anche non darmi una gomitata! Ma sono superiore e ti aiuterò lo stesso! Ecco! Dai un'occhiata! Wow! Grazie! Sarà una lunga nottata, quindi riposiamoci un po'. Oh, il sole mi sta bruciando! Non voglio finire per sembrare una ragosta, quindi sarà meglio se applico un po' di crema solare. Ah, dovrebbe bastare! Devo applicare uno strato bello spesso! E non posso dimenticarmi la faccia! Ah, com'è rilassante! Adesso sì che posso sdraiarmi al sole tutto il giorno e non bruciarmi! Cinque minuti più tardi! Ah, ora sì che sono abbronzata come si deve! Oh! Che cosa? No! Come è potuto succedere? Oh, di cosa ti lagni? Oh! Guarda e impara! Ti mostrerò come non sembrare rossa come un peperone! Come osi! Devi usare SPF 100! Sì, eh! Vedremo chi riderà per ultimo, sapientona! Trenta minuti dopo! Vedi? Sono bella dorata! Sì, dillo alla faccina sorridente! Oh, cosa hai fatto, bistecca bruciacchiata? Hm, cafona! Oh no! Come farò? Ah, fondotinta! Un vero salvavita! Forza! Non voglio comprarne uno nuovo! So che ce n'è ancora rimasto un po'! Dai! Ed esci! Ora ti faccio vedere io chi comanda! Meno male che sono andata a quel corso di karate l'anno scorso! E ora per la mia mossa speciale! Ciao! È il colpo di grazia! Wow! Wow! Nulla può mettersi tra me e la mia bellezza! Specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Oh! Pensavo che avrebbe coperto la faccina! Cosa? Cinque ore alla festa! Cinque ore! Oh no! Devo prepararmi in fretta! Il mio caro vecchio beauty box, vediamo quali preziosi tesori ci sono! Wow! Cominciamo da te! Si sta già preparando! Anche io ho bisogno del mio beauty box! Ora cosa abbiamo qui? Oh! Solo questa! Una saponetta! Ma cosa posso farci? Ok, deve pur servire a qualcosa! Beh, ovviamente inizierò lavandomi la faccia! Non deludermi ora, saponetta cara! Prima però devo coprirmi i capelli! Ora va già meglio! Iniziamo subito! Schioma party! Questa non è roba da Ello Kitty! Date il benvenuto a Katuoman! Sono passati secoli dall'ultima volta che ho fatto il bucato! A quanto pare vale ogni centesimo mio piccola saponetta! Sono bella e sono la migliore! E ora mi devo lavare il viso! Wow, ma che bella pelle che ho! Non ti lascerò andare mai più! Ah! Ah? Che cosa? No! So cosa fare! Mi serve il dentifricio! Aiutami Obi-Wan Kenobi! Sei la mia unica speranza! Spero che sia abbastanza! Potrei aver bisogno di un altro tubetto! Deve funzionare! Altrimenti la mia vita è rovinata per sempre! Ci vuole un'eternità! Vediamo se ha funzionato! Ah! Se ne sono andati! Meno male! Non finirò segregata con i nerd! Non userò mai più quella maschera a fogli! Perfetta! Tre ore alla festa! Oh no! Togliti di mezzo! Devo sbrigarmi! Ah! Questo gadget mi aiuterà ad avere dei bei ricci come quelli di Zendaya! Devo solo stare attenta a non bruciarmi i capelli! Voglio essere una gran figa alla festa e non sembrare una scema! Eh già! Oh wow! Meno male che ho guardato prima un tutorial! Ora devo farmi tutta la testa! Wow! Sai che c'è? Sono più figa di Zendaya! È ora di truccarsi! Addio imperfezioni! E abracadabra! Wow! Sono perfetta! Sono pronta per fare una gran figura alla festa! Oh! Oh! Sorella! Avresti dovuto applicare un po' di spray fissante! Adesso però diamo un'aggiustatina nuovamente! Ehi! Magari puoi anche lavare questo asciugamano con quella tua saponetta! Ora guarda che bei trucchetti che ti faccio vedere! Bisogna applicare e poi aspettare! Dobbiamo avere pazienza! Mamma mia quanto tempo! Finché non senti più le labbra! Non serve alcuna punturina per ottenere delle labbra belle carnose! A proposito! Non ho ancora finito con te! La parte migliore arriva adesso! Il rossetto! Wow! Voglio provarli tutti! Poi però dovresti ripulirti ogni qualvolta! Invece con questo trucchetto faremo più in fretta! Va bene! Che ne dici di questo? Guarda com'è brillante! Vediamo! Ma non credo che mi doni molto! Nessun problema tesoro! Ho più rossetti di quanto tu possa mai immaginare nei tuoi sogni più sfrenati! Guarda quanti! Non osare toccarli almeno chi non sia presente! Ti ho avvisata! Proviamo di nuovo! Forse questo? No! Penso che questa volta ci siamo! Wow! Sì sì! Voglio questo! Puh! Finalmente spero tanto che non ti sceglierai un marito come fatto col rossetto! Impeccabile! Ecco! Guarda come stai! Wow! Sembro una principessa! Quindi adesso? Intanto ti servono un paio di calzini! Per favore dimmi che non andremo a rapinare una banca! Beh! Quando è stata l'ultima volta che li hai lavati? Non perderti in inutili dettagli! Guarda imparo tesoro! Vedi? Boccoli perfetti! Elaborazione! Elaborazione! Um! Ok! Mi fiderò di te! Aha! Oh! Perché non sta funzionando? Perché le cose mi risultano sempre difficili? È come se avessi l'universo contro! Vabbè! Ci proverò lo stesso! Mi sento come se stessi incartando dei regali! Esattamente! Cinque minuti più tardi! Guarda come mi sono venuti! Cosa ne pensi? Wow! Sembri una rock star! Tocca a me! Tocca a me! Ma qualcosa deve essere andato stort! È tutta colpa dell'universo! Qualcuno mi sta chiamando! Devo andare! Prenditi cura di te, sorellina! Hai tutto il mio sostegno! Addio! Se ne è andata! Tanto non ho bisogno di lei! Ho YouTube! Ciao amici! Benvenuti nel mio nuovo video! Oggi truccherò la mia bambola! Oh! Com'è inquietante! Ciao bellissima! Puoi dominare il mondo con il tuo look! Allora segui il mio tutorial e non te ne pentirai! Questo è troppo! Non voglio dominare il mondo! Voglio solo dominare la festa! Salve a tutti! Dovete andare a una festa! Allora ho un bel look per voi! E' divertente, elegante ed è anche colorato! Oh! Finalmente qualcosa di utile! E sembra esattamente ciò che avevi in mente! Ho bisogno di questa palette di ombretti! A mia sorella non dispiacerà! Sembra polvere di fata! Bibidi-bobidi-boo! Sarà perfetto come evidenziatore! Wow! Com'è ipnotizzante! Un ultimo passaggio e ho finito! Ruby, sei pronta? Chi sei e che cosa hai fatto a mia sorella? Cosa intendi? Non può essere così male! Oh! Sì! È davvero così male! Faremo tardi! Togliti subito quel trucco da clown! Persino Joker si trucca meglio di te! Va bene, va bene! Non piangere! Ti aiuterò io! Altrimenti a cosa servono le sorelle? Oh, sorella mia! Tu sei la migliore! È come se fossi Cenerentula e tu fossi la mia fatta madrina con dei poteri magici! Ora vado bene! Abbiamo un'ultima cosa da fare! Sì! Hai scelto un abito bellissimo! Non muoverti! Non voglio che ti rovini di nuovo il trucco! Oh! È fatto! Wow, Rachel! È fantastico! Mi sento come se stessi per andare alla serata degli Oscar! Adesso tocca a me! Non dovrei volerci molto! Sono pronta! Wow! Wow, siamo anche abbinate! E andiamo alla festa! Scommetto che saremo le più belle! Sì! Battaglia dei cossini! Ma che... Non siete un po' troppo vestite per un pigiama party? Cosa? È un pigiama party! Ops! Non avrei mai immaginato! Ragazzi, scusate il disturbo! Aspettate! Facciamole restare! Non voglio fare la parte del villain! Ok, facciamole! Vedi, davanti! Per favore! Oh, grazie! Siete così gentili! Ma certo! Più siamo è meglio è! Prendete delle caramelle! Tieni! Ce ne sono ancora! Oh, grazie!